Ricordare Mimì con un premio musicale. Mimì e Mia Martini, artista calabrese, scomparsa prematuramente nel 1995. Il riconoscimento è invece l'iniziativa all'eredicata che con l'incontro artistico della 19esima edizione ha fatto tappa nel fine settimana appena trascorso a Scalea. Pertanto dal 6 al 9 giugno tanti giovani artisti della musica hanno raggiunto il tirreno cosentino per le audizioni, occasione importante per accedere alle fasi finali del premio. Con la conclusione di questi tre giorni la commissione artistica sceglierà coloro che dovranno presentare il brano inedito. Il brano inedito servirà per far conoscere al grande pubblico attraverso la radio ufficiale del premio Radio Medua questi brani. Da casa si potrà ascoltare, votare e poi da lì verranno fuori coloro che arriveranno al gran finale di Bagnara Calabra. Una vetrina per far conoscere il proprio talento con tanti giovani giudicati dalla commissione artistica. Una musica emotiva? Non a caso il premio della critica del festival della canzone italiana di Sanremo è intitolato all'artista calabrese Mia Martini. Sappiamo tutti cosa ha portato Mia Martini nella musica in Italia, non solo in Italia. Però tuttavia noi cerchiamo di dare il minimo di valutazione comunque abbastanza tecnica prima e poi anche tutto quello che può uscire da un artista anche a livello non tecnico. Sono certe cose che fanno parte del talento. Per cui sono una valutazione abbastanza attenta. Ci teniamo molto a considerare la verità di se stessi, l'autenticità, nel senso che nella musica leggera, nella canzone è molto importante avere un messaggio proprio da comunicare, avere qualcosa da dire. Mia Martini in questo era sicuramente eccezionale, non a caso è considerata la più grande interprete della canzone italiana.